Musica Incidente questa mattina poco dopo le 8.30 in via Carlo Botta a Castellamonte A scontrarsi una Fiat Stilo condotta da un giovane di Pratiglione e una moto Harley Davidson Custom con a bordo motociclista di frazione Muriaglio di Castellamonte L'impatto è stato piuttosto violento, sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri di Castellamonte e Ivrea Il motociclista, subito a soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Ivrea, non è in pericolo di vita, illeso il conducente della vettura La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Castellamonte Un po' di razzare e, se spogliere all'icime La quale ho spero di razzare per fare Il motociclista di Sfoc damage Il motociclista di San Plyro Il motociclista di Sfoc Il motociclista di San Pajornio Il motociclista di Sfoc Il motociclista di Sfoc l'unociclista di Sfoc